Stamattina questa casa da un concetto sembra in basa, le sentite queste sveglie? Cosa c'è? Cosa di vita? C'è vogliono un trecento, ma che dico millecento, per via la dormigliona perché è proprio una migrona. Ogni giorno fanno la gara, un chiasso da bambara, fra un paio di ferra, il tetto ha messo un pianto a un servizio. E tu che il cavolo è quello che c'è? Ma via! E c'è! E più! E più di asa! Dieci, forse ce ne vorrebbero dieci, quindici, magari venti, forse devi dire, venticino magari, o forse dovremmo magari un po'. Arrivo, 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 ecco qua, aspetta un attimo, la Pimpa si è arrivata, eh? Ehi Pimpa, Pimpa lo sento, ma non sento niente, abbassate la musica, eh? La Zebri Pimpa. Metà Zebra e metà Pimpa. E lì così. E poi ho fatto anche la Tigri Pimpa. Metà Tigre e metà Pimpa. E questo sto finendo la Cocci Pimpa. Metà Cucinera e la Cocci Pimpa. Accenditi a stiracolvere Gino. Mi sto ricordando che ho un po' di affortunato. Oh, senza la Pimpa è tutto difficile, eh? Eh sì, spieghiamo qua, guarda quante briciole. E' eccolo, bravo Gino, bravo, bravo. Anche a terra, anche a terra, anche a terra, anche a terra, guarda, 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 guarda. Basta il tronto, basta, basta, fermati, fermati. C'è il telefono? C'è il telefono? Mi ho messo il telefono. Ho detto, l'ho messo il telefono? Diconi, dico blog, dico blog. Diconi, dico blog, dico blog. Nel frigodì in casa, nel frigodì! Lo metto search in posti strabio.. Ma davvero e' qua? Va' un po'. Era qua e2! Aspetta, non ci vedo il tasto, il tasto, il tasto, il tasto, il tasto, il tasto. Questo non è qui. E questo non può. Bravo, hai risposto. Grazie. Pronto a chi parla? Ciao, mandoni. Ciao, Pippa, come sei? Questo pomeriggio coraggioso è nato il mio pensiero tortenzoso. Gli amici sono tanto a volte tutto E quando non ci sono il mondo è brutto Quando ritorna, giuro glielo dico Sarò per sempre il tuo caro amico